Progettato esclusivamente per il mercato europeo, il Transit Courier è un furgone estremamente compatto, che viene realizzato sul pianale globale di segmento B comune a modelli come la Ford Fiesta, generazione 2008 e Ford B-Max. Si tratta quindi di un commerciale prodotto sia in versione van che per trasporto persone, con porte posteriori scorrevoli e abitacolo da due fino ad un massimo di cinque posti. Grazie alle sue dimensioni contenute, è un veicolo facile da guidare, manovrare e parcheggiare. Il suo motore benzina, EcoBoost 1000 e i diesel di nuova generazione DuraTorque 15006 sono progettati per garantire minori consumi di carburante. L'aspetto compatto di questo nuovo furgone non deve però trarre in inganno. Ford Transit Courier è un veicolo commerciale incredibilmente spazioso, ha una capacità di carico di 2,3 m3. Inoltre tra le numerose dotazioni tecnologiche innovative troviamo il Ford Sync con controllo vocale, che consente di non perdere neanche una telefonata, un appuntamento o una nuova opportunità di lavoro, poiché permette di gestire le chiamate in entrata e in uscita e gli SMS in arrivo con semplici comandi vocali. Infine il comfort che non ha nulla da invidiare a quello di un'automobile. Insomma un ottimo investimento per un'attività commerciale. Grazie a tutti.